buonasera nel primo video di oggi cioè questo intendo parlare e fare il punto sulla guerra nello Yemen ho fatto un incontro pubblico su questo tema per la domus robica video che diffonderanno spero entro fine mese per quanto riguarda il punto che dobbiamo fare riguarda gli sviluppi gli sviluppi che ci sono stati dall'ultimo aggiornamento che avevamo dato riguardo appunto allo svolgimento ci eravamo lasciati con una campagna militare particolarmente concentrata su marib che vedeva in difficoltà grave le forze legate all'arabe saudita in particolare abbiamo visto come le truppe degli uti fossero schierate e accerchiassero quasi marib sia da sud che da nord e premessero da ovest gli effetti che avevamo previsto di questa manovra atenaglia riguardavano il possibile accerchiamento totale di marib e quindi la fuga dalla sacca che si era creata da un saliente che si era creato di marib arretrando fino oltre l'eventuale caduta di marib che sta assorbendo le risorse di ambo i contendenti comporterebbe un ritiro di centinaia di chilometri per le truppe saudite e filosaudite il che significa sostanzialmente la piena sconfitta militare perché tutto il territorio di quello che fu lo yemen del nord tornerebbe in mano agli uti che era ansarallah in poche parole la casta dominante nel paese la cosa particolare adesso andiamo a vederla sulle mappe è che effettivamente la situazione sul campo sta evolvendo né in altri fronti stiamo assistendo a un progressivo ritiro delle truppe filosaudite da alcuni punti di grande vantaggio tattico e strategico che avevano e cioè l'assedio della città di al-ud-aida che è il porto principale attraverso il quale giungono i rifornimenti da parte umanitari da parte delle nazioni unite di per la popolazione e poi però da lì giungono anche spesso i rifornimenti di armi o di tecnologie necessarie alla realizzazione degli dei missili che poi assemblano e realizzano nei paesi proprio a proposito di questo notizia di oggi che i sauditi hanno dato hanno rilasciato che attraverso i loro bombardamenti con gli f15 che dispongono che di cui dispongono abbondanza in abbondanza dovrebbero aver colpito alcuni punti strategici di comando di ansarallah in particolar modo i laboratori dove vengono appunto assemblati sia i missili che i droni i sistemi di comunicazione via dicendo e cioè certificano in poche parole quello che già anni addietro avevamo detto e cioè che i droni e i missili da crociera che gli uti schierano nel paese per colpire le forze saudite vi ricordate l'attacco ad esempio alla più grande raffineria della ramco il gioiello di famiglia anzi adesso collocato in borsa saudita non fossero giunti dall'iran come sostenevano all'epoca gli stati uniti o i sauditi ma direttamente dallo yemen questo grazie al fatto che hanno realizzato in loco strutture capaci di produrre o di assemblare ecco queste questo tipo di diciamo velivoli mentre invece per parecchio tempo loro hanno sostenuto che l'attacco fosse arrivato direttamente dall'iran addirittura passando dal kuwait e non attraverso la via più breve che è il mare il golfo persico per capirci un po voler sminuire il merito del proprio nemico un po voler incolpare di questo l'iran altre strutture colpite siano state nelle repubbliche nelle province centrali di damar e settentrionali di al jaouf e sadà oltre che nella stessa capitale sanà queste dovevano essere strutture segrete addirittura citano hezbollah libanesi e guardia rivoluzionaria islamica iraniana vabbè che poi le abbiano colpite o meno che abbiano semplicemente bombardato non lo sappiamo resta resta il fatto che sul campo stanno arretrando mentre adesso vi faccio vedere a che punto sono le truppe invece degli uti a ridosso di marib andiamo a vedere le mappe questa immagine ad esempio è tratta dalle mappe di fine settembre inizio ottobre questa era la situazione con un fronte avanzato a nord che era giunto a nord di safer un fronte avanzato che da sud tendeva a girare le difese di marib il fronte ad ovest di marib che bloccava le difese saudite su questo fronte e un saliente a sud giudaida come vedete che entrava in grossa difficoltà perché da sud e da nord potevano convergere su safer le forze uti e mettere in difficoltà grave le forze asserragliate attorno a marib o nella sacca la situazione nel mese in un mese e mezzo ha preso una svolta simile a quella che avevo pronosticato e cioè che chiudendo verso safer si sarebbe ritirato tutto il saliente con le truppe saudite all'interno di marib inoltre avevo detto che stavano cercando di convogliare tutti i rinforzi possibili su questo saliente perché ad est di marib fino ad arrivare ad alabre non c'è più nulla se non i pozzi petroliferi in questo settore e quindi perdere marib significava perdere tutto il territorio fino ad alabre che combinazione era grosso modo lungo la linea del vecchio yemen del nord le difese tra l'altro saudite perdendo il territorio fino ad alabre sarebbero in grave difficoltà per rifornire via terra tutto il fronte come vedete arrivava fino all'ambire aludaida vediamo ora come è la situazione a oggi 19 di novembre questa è la situazione nello yemen oggi che è il 19 di novembre andiamo a vedere il settore di marib allora innanzitutto vediamo come arib e le altre località arresane eccetera fossiano rimaste simili questo era il punto avanzato verso est nel fronte sud di marib come vedete safer è a nord della punta estrema come aveva indicato appunto nella mappa di fine settembre a nord abbiamo la posizione degli uti che anche questa era a nord di safer ipotizzando un ripiegamento da nord e da sud sulla località mediana di safer tutta la sacca si sarebbe trovata assolutamente in grave difficoltà perché chiusa il fronte invece del saliente si è disciolto come potete vedere le forze saudite si sono in un mese e mezzo hanno abbandonato tutto il saliente a sud a sud ovest di marib e si sono concentrate nella difesa della città città che oramai è asserragliata perché circondata su più fronti questo è il fronte in avanzata da sud che prosegue e sta circondando marib oltre che dalle alture dell'ovest anche vedete questo è un è un punto rialzato che va a dominare la zona le forze delle di ansara alla si stanno disponendo proprio qua che è una ottima posizione per cingere d'assedio la città e dare supporto di fuoco da una posizione ottimale cosa potranno mai fare per fermarli i sauditi se finora non ci sono riusciti non lo so perché pur utilizzando tutta l'aviazione col suo peso di cui dispongono non sono riusciti a fermarli le perdite degli uti sono state elevate perché mantenendo l'iniziativa e l'offensiva per tanti mesi è ovvio che questo costi costi in termini di mezzi di materiali umani i tempi come ho spiegato in questa guerra sono lenti rispetto ad altre cui abbiamo assistito che abbiamo seguito in questi anni questo dovuto al fatto innanzitutto alla penuria di mezzi che hanno a disposizione le forze che attaccano cioè le ansara alla non ha soldi o struttura militare con mezzi e forniture continue come invece dispongono i sauditi che vengono riforniti da tutti i paesi occidentali ampiamente sia di mezzi che di armi e dispongono di pezzi di ricambio per i loro aerei e via dicendo di fatto lo jemen ha un'aviazione composta da missili da crociera e droni autoprodotti oltretutto non possiede caccia non possiede una struttura di difesa aerea adeguata principalmente usano mitragliatori e cannoni antiaerei non dispongono di una moderna un moderno sistema di difesa coordinato e dotato di missili per colpire questo tipo di caccia le forze quindi saudite pur avendo questo tipo di dotazioni stanno manifestando una difficoltà gravissima in questo periodo in particolar modo come vedete si stanno si sono ritirate fino a marib il prossimo passo non sarà nient'altro che ritirarsi fino ad alabre e cioè in questo settore secondo la scala 20 chilometri sono più o meno questo tratto potete fare i conti quindi che ci saranno dieci volte tanto per arrivare ad alabra sono almeno 200 chilometri di ritirata significa allungare di molto la via dei rifornimenti per il settore a sud che infatti non a caso si sta ritirando andiamo a vedere nella mappa precedente vi ricordavate quella che abbiamo visto a fine settembre le forze saudite si attestavano alle porte della città portuale di alu daida a sud in poche parole e proseguivano lungo una striscia di terreno che lambiva queste località avevano il controllo di tutto tutto questo tratto di costa ora si sono ritirate fino alla al cauca in questo in questa ritirata loro stanno manifestando la loro debolezza perché stanno cedendo gli ultimi tratti del di quello che era lo yemen del nord e avvicinano di molto le truppe di ala ansarallah alla zona mocca ad esempio è una roccaforte una città portuale piuttosto importante ed è molto vicina tra l'altro allo stretto di bab al mind hub che è strategica quindi per il controllo dello stretto sappiamo che questa guerra trova le sue origini proprio nel controllo di questo tratto di mare strategico che è conteso tra le forze saudite e quelli iraniane gli iraniani vogliono portare grazie alla loro alleanza con ansarallah il controllo oltre che lo stretto di ormuz a quello di bab al mandab con loro poi verrebbe dietro anche diciamo la possibilità per alleati dell'iran di avere delle basi in questa zona gli inglesi l'avevano già capito che il controllo degli stretti dei passaggi strategici del mare è una precondizione per la proiezione marittima di una potenza che voglia avere ambizioni globali ed ecco che avevano preso immediatamente il controllo di aden avevano stabilito qui la loro base e da qui controllavano il porto attraverso la loro marina non credo che l'iran abbia le ambizioni di diventare una potenza marittima ma sicuramente il suo alleato la cina sì il programma navale cinese la porterà nel giro di 10 15 anni ad avere la flotta della marina da guerra più potente e capace di proiettarsi nel mondo la recente i recenti sviluppi con accordi di pattugliamento congiunto con la marina russa offre loro quel di più che manca in esperienza mentre la marina russa pur essendo sempre stata limitata la russia fondamentalmente è sempre stata una potenza di terre non di mare avendo una proiezione enorme rispetto a qualunque altro paese però ha una marina che esiste da decenni fin dai tempi dell'unione sovietica e che ha l'esperienza necessaria che manca invece alla cina quindi sicuramente non è paragonabile all'inghilterra la potenza navale russa soprattutto in quanto esperienza però è sempre maggiore di quella che invece hanno i cinesi l'unione del dei loro sforzi garantisce senz'altro una situazione migliore rispetto alla precedenza alla precedente vediamo ora quindi cosa potrà succedere innanzitutto prevedo che l'avanzata di ansarallah arriverà in breve tempo fino a mocca che potrebbe essere un obiettivo sul quale poi stabilizzare un nuovo fronte perché qua nella zona di aden abbiamo pochi se lo ricordano ma è stato riproclamata l'indipendenza dello jemen del sud in poche parole grazie a qui ci sono gli emirati arabi ancora che hanno il controllo anche di mucallà e altri porti qui in zona e usano la loro presenza giustificandola per combattere i terroristi sacchi di terroristi isis e al qaeda che sono presenti nel paese più per fare da paravento alla presenza delle altre potenze che non perché abbiano una loro funzione specifica visto che del resto erano pagati sia dai sauditi che dai dagli emiratini ecco almeno per quanto abbiamo visto nella guerra in siria altrimenti non si spiega dove trovassero i soldi quindi abbiamo lo jemen del sud che si sta riformando e uno jemen del nord che sta tornando in pieno possesso di coloro che già lo avevano non guardate all'estensione territoriale a est del paese perché questa è solo una zona pietrosa praticamente disabitata del paese il grosso della popolazione è tutto dello jemen nel complesso in quello che fu lo jemen del nord che probabilmente andrà a ricostituirsi il succo della di questa guerra si può riassumere nel discorso che per eliminare un paese la repubblica democratica dello jemen che era in orbita diciamo dell'unione sovietica caso unico più unico che raro avere una repubblica popolare democratica di ispirazione socialista nella penisola araba è stata eliminata perché con la caduta del muro di berlino hanno dato un impulso e una spinta ai politici che governavano il paese allora affinché si unificassero con il nord e facendo questo eliminando un paese che era per loro un motivo di preoccupazione in quanto legato all'unione sovietica le forze però politiche di allora mal valutarono le differenze sostanziali tra le due realtà statuali uno jemen del sud privo di risorse e con popolazione inferiore numericamente si vide pur votando compattamente per il partito socialista se non sbaglio che c'era al governo allora prese quasi se non sbaglio il 90 rotti per cento dei voti nonostante ciò arrivò terzo nelle elezioni e quindi la cosa diciamo diede loro modo di capire che non avrebbero mai mai potuto rappresentare una forza di governo nel paese significativa proprio per il fatto che a differenza di ad esempio del libano la costituzione che era stata modellata per il nuovo nuovo stato unificato non prevedeva la partecipazione delle forze presenti come ad esempio nel libano che ogni componente ha una rappresentanza nel suo governo ecco che quindi lì capirono che c'erano stati degli errori per troppa fretta diciamo che il processo di unificazione è nato nel novembre dell'89 e si è concretizzato nell'aprile del 90 quindi capite bene che fu una cosa piuttosto rapida cercarono di portare il tutto a una dimensione federale ma chiaramente chi aveva vinto le elezioni disse no nacque così una serie di guerre che praticamente prosegue ancora oggi questa guerra finirà probabilmente o con la vittoria totale di ansarallah o con la nuova divisione del paese in due realtà il sud non finirà con l'essere un satellite degli emirati arabi forse spezzettato addirittura con zone di influenza invece saudita e lo yemen del nord tornerà alla sua dimensione antica se non che invece prosegua la guerra e vada a occupare tutto il territorio del paese benissimo il punto un grosso modo della situazione è questo marib quindi è prossima a cadere il fronte ormai è maturo come vedete le truppe hanno conquistato delle alture strategiche altre si apprestano a conquistarne sono su un fronte vantaggioso a sud la possibilità di ripiegare su safer è sempre attuale ed è un rischio che se dovesse avvicinarsi alla sua concretizzazione spingerebbe anticipatamente il ritiro delle forze saudite senza neanche il bisogno di conquistare militarmente la città spero di essere stato chiaro di essere riuscito a spiegare con sufficiente chiarezza quella che è la situazione attuale nello yemen abbiamo visto gli sviluppi intorno a marib che sono significativi e danno un forte vantaggio tra l'altro all'alleanza di ansarallah vediamo come anche a sud si è iniziato questo ritiro che nel giro di una settimana appunto ha spostato a molto a sud di diverse decine di chilometri la linea del fronte allontanando le speranze saudite di conquistare aludaida e pertanto vede l'inizio di questa manovra all'inizio di quel ritiro che segnerà la definitiva sconfitta dell'arabia in questa guerra per loro molto dispendiosa e frutto di tante delusioni vi ringrazio ancora per l'attenzione vi rimando al prossimo video che dovrebbe essere sulla situazione in siria arrivederci anzi farò anche qualche aggiornamento oltre che una puntata diciamo che va a esaminare diverse situazioni buona serata arrivederci